Grazie a tutti. La polizia ha scoperto una fiorente piazza di spaccio proprio a Catania. Poliziotti che hanno eseguito misure cautelari per circa 30 indagati nell'ambito dell'operazione denominata Terzo Capitolo, ma per i dettagli. Vediamo il servizio. Una fiorente piazza di spaccio gestita da un gruppo di trafficanti legati alla cosca mafiosa Arena al centro di un'operazione antidroga della polizia di Catania. Circa 200 agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di circa 30 indagati. La sorveglianza della piazza di spaccio era assicurata da un sistema di vedette che comunicavano tra loro soltanto via radio. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni video, comprese quelle registrate con una telecamera nascosta piazzata davanti l'ingresso di un palazzo che era la base operativa per l'approvvigionamento e la vendita di cocaina, crack, marijuana e skunk. Il provvedimento restrittivo emesso dal GIP su richiesta della DDA della Procura Etnea ipotizza a vario titolo e con differenti profili di responsabilità i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco e spaccio di droga. Restiamo in tema, parliamo ancora di spaccio di droga, in questo caso la notizia arriva da Messina dove gli agenti della Polizia di Stato in diverse operazioni hanno tratto in arresto tre persone, poliziotti che hanno sequestrato anche oltre un chilo di marijuana. Vediamo il servizio. Nel mese di marzo la Polizia di Stato, nell'ambito di specifici servizi disposti dal questore di Messina, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a tratto in arresto, in flagranza di reato e in attività distinte, due cittadini messinesi e uno straniero per la detenzione ai fini di spaccio di quasi un chilo e mezzo di marijuana che avrebbe consentito di mettere sul mercato oltre 5.000 singole dosi con conseguenti ingenti profitti illeciti. I poliziotti delle volanti, già nei giorni precedenti agli arresti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio, avevano compiuto mirati servizi di osservazione, accertando che proprio nei pressi delle abitazioni degli arrestati vi era un continuo e innaturale andirivieni di assuntori di stupefacenti, verosimilmente interessati all'approvvigionamento della sostanza. Nel primo caso, durante la perquisizione domiciliare che ne è scaturita, svolta con l'intervento di una unità cinofila antidroga, lo straniero è stato colto in possesso di circa 400 grammi di marijuana occultati all'interno di un vaso in terracotta che si trovava sul balcone della camera da letto, rinvenendo anche materiale per la relativa suddivisione in dosi e denaro ritenuto verosimile provento delle cessioni illecite già realizzate. Presso l'abitazione del secondo soggetto tratto in arresto, lo stupefacente rinvenuto ammontava quasi 800 grammi e si presentava già suddiviso in buste custodite in un armadietto della veranda di pertinenza dell'abitazione dell'arrestato. Infine, il terzo soggetto tratto in arresto aveva tentato di occultare, tra i cavi elettrici del controsoffitto della sua camera da letto, i circa 200 grammi di droga che deteneva in vista dell'imminente smercio al dettaglio, non riuscendo comunque a sfuggire al fiuto del cane antidroga dell'unità cinofile impiegata nelle attività di controllo e repressione. Prosegue a Catania l'azione di contrasto da parte della Polizia di Stato al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. A tal proposito, gli agenti sono intervenuti proprio in città e hanno tratto in arresto un soggetto con l'accusa di tentata estorsione. Vediamo il servizio. Il personale delle volanti è stato inviato in piazza Turi Ferro per la presenza di un parcheggiatore abusivo extracomunitario alquanto molesto. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza di un 26enne catanese, il quale ha riferito loro che poco prima uno straniero che stava svolgendo l'attività di posteggiatore abusivo l'aveva minacciato dopo essersi rifiutato di consegnargli il denaro. Contestualmente ha indicato agli operatori l'autore della minaccia che alla vista della volante si è allontanato repentinamente. Il soggetto è stato comunque raggiunto, bloccato e identificato. Si tratta di un pregiudicato sudanese 41enne senza fissa dimora. L'uomo risultava essere sottoposto al DACUR, il provvedimento in base al quale il questore gli ha vietato la frequentazione di determinate vie e zone della città, tra le quali rientrava proprio la piazza Turi Ferro. Il cittadino richiedente ha riferito agli agenti di aver subito altre volte minacce anche alla propria incolumità personale con contestuali danneggiamenti dell'auto da parte della stessa persona. Dopo l'ennesimo tentativo di estorsione, il giovane, esasperato, ha deciso di chiudersi all'interno dell'auto e di richiedere l'intervento di una volante che, giunta sul posto, ha provveduto subito a bloccare il soggetto. Anche la preziosa collaborazione di un altro cittadino che ha assistito all'evento e che ha fornito delle utili indicazioni agli agenti, ha permesso di trarre il parcheggiatore abusivo in arresto per il reato di tentata estorsione e di condurlo presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida. Lo straniero è stato anche deferito allo Stato libero per l'inottemperanza al Dacur. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Gela. Graziano Amato ci parla delle condizioni di degrado in cui versa il lungomare di Gela dove tra l'altro sono comparse su muri e panchine delle scritte NOVAX e contro l'attuale governo. Ma non solo perché la passerella è anche invasa dalla sabbia. Vediamo il servizio. Scritte contro i vaccini, i medici e il governo. Ecco come si presentano da ieri muri e panchine del lungomare di Gela imbrattati dai gnoti con della vernice rossa. Medici pro-vax boia, togliere il contante dittatura, governo nemico del popolo, il vax uccide. Alcune delle frasi scritte presumibilmente con alcune bombolette. Messaggi del genere sono stati impressi anche su alcune giostre della villetta Auriga, Macchitella. Una bravata che in città ha suscitato indignazione. Le scritte ovviamente sono state notate anche dalle centinaia di avventori che tra ieri e oggi, complici calde e temperature di aprile, hanno passeggiato sul lungomare. Ma è una cosa sbagliata. Per cui si deve fare indagine per vedere chi è stato. Certo, bisogna fare i vaccini perché è una cosa giusta che si facciano i vaccini. Visto, saputo, mi dispiace tantissimo. Perché capisco che ognuno possa avere le proprie idee, ma un atto di inciviltà del genere non va bene proprio. È tutto imbrattato, sedile per sedile. Non solo Vandali e Murales, il lungomare di Gela versa nel degrado anche per via della sabbia che invade la passerella, ma è ripristinata, impraticabile di conseguenza per ciclisti e pedoni. Io vengo a camminare tutte le mattine, sono costetta a fare sali, scende, che non fa male. Però voglio dire, avere una passerella del genere non poteva sfruttare, sinceramente è un peccato. Perché giustamente non si può passeggiare in una banchina in cui c'è la sabbia e la gente deve salire e per forza deve andare o sul marciapiede dall'altra parte eppure non deve vedere la bellezza del mare. Dovrebbero pensare a curare la città. Noi abbiamo una bellissima spiaggia, abbiamo un bellissimo lungomare, ma è poco curato. La cosa più grave è questa, non è l'imbrattamento alle muri, perché i muri possono essere benissimo ripristinati, ma la sabbia quando verrà tolta dalla passeggiata deve arrivare prima alla strada, appunto in derogativo. Domanda che faccio agli amministratori. Rispostiamo a Bonpietro, nel Palermitano, dove si sono conclusi i lavori per la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda, ultralarga. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. È già operativa a Bonpietro, nel Palermitano, la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete che consente ai cittadini, alle imprese e ai professionisti del comune in provincia di Palermo di accedere ad internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. L'intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. La rete ultraveloce, oggi disponibile a Bonpietro, raggiunge 2853 unità immobiliari attraverso le tecnologie Fiber to the Home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici e Fixed Wireless Access. Quest'ultima è una soluzione basata sul rilegamento in fibra ottica delle stazioni radiobase, in modo tale da raggiungere le unità immobiliari disperse in zone a scarsissima densità di popolazione. Tra gli edifici coperti ci sono la scuola materna, la scuola primaria, la scuola media di via Chiusa Alvani, la scuola media di via Rampanti, il presidio di continuità assistenziale, il municipio, l'ufficio tecnico, la biblioteca, il comando di polizia municipale, la caserma dei carabinieri e gli uffici cimiteriali. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del comune. L'infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del piano banda ultralarga gestito da Infratell'Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della regione siciliana. La carta stampata sta vivendo un periodo di evidente crisi e questo ha comportato e comporta tuttora la chiusura di diverse edicole, anche storiche, in tante città italiane. A Giardini Naxos, invece, succede l'esatto opposto, ovvero una edicola viene salvata dalla chiusura. In piazza Agorà, Monsignor Cingari, un autentico miracolo, si è salvata un'edicola, un fatto eccezionale in Italia, visto la crisi della carta stampata. Antonio Magri, cos'è accaduto in questa splendida piazza che è stata recentemente rinnovata e che adesso ospita nuovamente la sua edicola? Si è dovuta spostare l'edicola per poter finire di fare i lavori e dopo quattro mesi, finalmente, ci riattiviamo perché noi vogliamo essere sempre presenti per la vendita di informazione, quella che è importante in questo momento, visto la carenza della gente che forse non ha più voglia di informarsi, forse non ha più voglia di prendere l'informazione vera e propria. E purtroppo questo problema che si sta vedendo a perdita d'occhio, nel senso che deve risollevarsi. Le faccio una domanda, ma si vendono ancora i giornali? Non più come una volta, ma noi resistiamo, resistiamo perché siamo in un posto turistico dove centinaia di migliaia di persone arrivano durante l'anno e dobbiamo essere sempre presenti perché l'informazione deve essere parte di noi. È bello vedere ancora una persona che sfoglia un giornale magari al bar? Certo, certo, perché no? Ripeto, sembra come una ripetizione, ma una persona che legge, è una persona che pensa, è una persona che pensa, vede oltre la sieve, ecco, quel mio pensiero è questo. Chiudiamo con una notizia di cronaca, l'arresto a Belpasso nel Catanese di un rapinatore seriale. I carabinieri di Belpasso, al termine di articolate indagini, hanno arrestato un pregiudicato di 39 anni poiché è ritenuto responsabile di due diverse rapine avvenute nei giorni scorsi con le stesse modalità in altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino. In particolare, il 20 marzo scorso, i militari dell'arma erano intervenuti in una tabaccheria di Via Vittorio Emanuele II, dove poco prima un individuo, travisato da uno scaldacollo e sotto minaccia di un coltello, si era impossessato della somma contante contenuta nelle casse e di alcuni pacchetti di sigarette. Fin da subito, i carabinieri di Belpasso, immediatamente intervenuti, grazie alla profonda conoscenza del tessuto criminale del territorio, rafforzata anche dalle testimonianze dei dipendenti e dalla visione degli estratti video delle telecamere di sorveglianza, avevano ipotizzato che dietro alla rapina ci potesse essere un pregiudicato del posto che già in passato aveva compiuto azioni predatorie con identiche modalità. L'elemento che ha consolidato l'attività investigativa si è poi presentato il seguente 26 marzo quando lo stesso rapinatore ha tentato di ripetersi prendendo di mira una farmacia della centralissima Via Roma. In questo caso il soggetto però è stato meno fortunato poiché ha incontrato la ferma reazione dei farmacisti che sono riusciti, anche a seguito di una lieve colluttazione, a mettere in fuga il malvivente che è stato infine bloccato poco distante da una pattuglia dei carabinieri che ha allertata dalla centrale operativa della compagnia di Paternò e arrivata sul posto pochi istanti dopo. Per quest'ultima rapina, anche a seguito della convalida, il rapinatore arrestato in flagranza è stato trasferito presso il carcere di Catania Piazza Lanza. Nel frattempo, a seguito della ricostruzione dei fatti della prima azione predatoria ai danni della tabaccheria per la quale i militari dell'arma di Belpasso sono riusciti a identificarlo, l'autorità giudiziaria ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare che gli è stata contestualmente notificata in carcere. Ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Notizia 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 Grazie.